Senatore Perosino, che Natale sarà questo del 2020 per lei? Io ho la sensazione che la gente vorrebbe un Natale normale. Stiamo vivendo delle ore di interpretazione del famoso DPCM, che il governo è emanato con certa difficoltà, ma è oggettivo, non è facile regolamentare. Abbiamo pochi giorni per lo shopping. Credo che chi non ce la facesse non vada a intasare il traffico, i legotti c'è tempo anche dopo. Certo che i regali è Natale, c'è questa tradizione. Penso che le famiglie possano in qualche modo radunarsi e questo è già importante. Però vorrei veramente, oltre a considerare questo aspetto commerciale, ma che è ricente della tradizione e sul quale noi conveniamo, che è utile, che è importante per tutti, soprattutto per il lavoro, per la futura ripartenza, che sarà un argomento importantissimo. Però approfitto per fare gli auguri a tutti i nostri ascoltatori. È importante formalizzarli e farli quest'anno, seppure in difficoltà, perché una ventata di ottimismo e di speranza è necessaria. Le ragioni delle persone, le ragioni della vita, della salute, del lavoro, sono le più importanti della difficoltà. Noi abbiamo superato momenti difficilissimi. Mai avremmo pensato di vivere una guerra senza avere l'avversario, il nemico, tra virgolette, di fronte. È toccato a noi, è toccato a questo periodo. Vi posso dire che, secondo me, i contagi stanno calando moltissimo. Se non ci sarà la terza fase, o se sarà più lieve, o se sarà più avanti, perché bisogna arrivare alla primavera, anche in attesa del vaccino, ne verremo fuori. È la natura dell'uomo, è la natura degli italiani. È una speranza che è tradizionale, laica, ma è anche cristiana, perché noi veniamo tutti da lì. Quindi gli auguri che faccio a tutti sono di cuore e a tutti coloro che ci ascoltano, che sono piemontesi, ma siamo veramente, senso di essere italiani, di essere un popolo.